all'attacco. Ecco l'azione della Roma, vedete Serezo a Falcao, gran tiro, Garella pronto parata. Ed ecco dall'altra parte Tancredi, vedete che interviene su Galderisi lanciato a rete. Poi l'azione del gol, siamo negli ultimi venuti, Verona all'attacco, la palla va verso la destra, corrono insieme Sacchetti e Galderisi, Tacco, Galderisi, Traversone adesso vediamo, insistente dribbling, respinge Romanista, arriva Di Cernaro, la palla è in rete.